Un elemento che mi preme a sottolineare l'aspetto collaborativo e interistituzionale tra l'amministrazione statale e quella civica, nel comune intento della protezione e conservazione del patrimonio culturale nazionale, a prescindere dalla loro titolaità. Non si può che concordare con gli onorevoli interpellanti sull'importanza che l'arte riveste nel nostro Paese. Il Governo, nella legge di stabilità 2016, ha infatti operato un'importante inversione di tendenza, aumentando sensibilmente le risorse destinate alla cultura e al turismo. In merito all'effettivo valore delle opere rubate, vorrei precisare che quello indicato nell'atto parlamentare è una stima di massima, suscettibile di correzioni sulla base delle comunicazioni che dovranno necessariamente pervenire dall'ente proprietario. Il Segretariato regionale del Veneto, acquisite per le vie brevi informazioni dall'ex direttore del Museo, riporta a proposito dell'opera del Mantegna che il valore fornito al competente ufficio patrimoniale del Comune di Verona per attivare l'assicurazione individuale dell'opera era basato anche sul dibattito critico intorno alla certezza sulla paternità dell'opera medesima. Grazie. Grazie, Vice Ministro. La deputata Galgano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sono insoddisfatta della risposta, perché la risposta non ha risposto ai quesiti fondamentali della interpellanza, perché noi chiedevamo se il Governo intendeva intervenire per quanto di competenza, per quanto riguarda la turnazione degli addetti alla vigilanza nei musei. Io sapevo già quello che lei mi ha detto relativamente al fatto che dall'orario di chiusura alle nove di mattina c'è un agente di vigilanza, il che contrasta in maniera piuttosto evidente con il fatto che all'interno del museo sia presente un sistema di videosorveglianza, perché noi non possiamo ragionevolmente pensare che un agente di sorveglianza da solo possa tenere sotto controllo un sistema di videosorveglianza. La nostra interrogazione prendeva spunto dai le vicende del Museo Civico di Verona, ma in realtà chiedeva al Governo di intervenire sui musei di competenza del Governo, perché noi vogliamo sapere se c'è sorveglianza notturna, perché quello che è successo a Verona non si debba ripetere negli altri musei. Siamo lieti di apprendere che il Governo abbia stanziato maggiori risorse nella legge di stabilità, è sicuramente un passo avanti, però ribadiamo il fatto che non abbiamo avuto le risposte che attendevamo e che quindi insisteremo e presenteremo un'altra interpellanza. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.217 dei deputati Russo e Brunetta concernente iniziative di competenza, anche normative, volte a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dei magistrati in relazione ad una vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Presidente della Regione Campania. Chiedo al deputato Paolo Russo se intende illustrare sull'interpellanza. Prego, Onorevole. Sì, grazie, Presidente. Proverei ad indicare come è vero che questa vicenda attiene e riguarda il Presidente della Giunta regionale Campana.